Il dissesto idrogeologico che interessa il Comune di Quarto è da tempo cosa nota. E note sono le cause dei ripetuti e intensi allagamenti in caso di temporali. Con l'approssimarsi del maltempo, l'amministrazione tenta di correre ai ripari, diffidando la Regione Campania, il Genio Civile e l'autorità di Bacino Campania. Ad annunciarlo è il Sindaco di Quarto, Rosa Capuzzo, che sembra aver perso un po' della fiducia con la quale, circa un anno fa, annunciava alla stampa l'apertura di un tavolo di confronto con gli organi sovracomunali, che avrebbe portato in breve tempo a risolvere l'annoso problema degli allagamenti a quarto. Nella lettera di diffida agli organi sopracitati si fa riferimento ai lunghissimi tempi di attesa, a fronte di una situazione che si presenta grave ed urgente e che richiederebbe interventi immediati. Il preoccupante stato delle vasche è stato confermato dagli ultimi rilievi effettuati, i cui risultati sono stati inviati alle autorità sovracomunali, le uniche, peraltro, competenti ad intervenire. Le vasche si presentano stracolme di fango e detriti, dunque inidonee a raccogliere l'acqua e il materiale che viene giù dalle colline circostanti, ogni qualvolta si verifica un temporale. Occorre iniziare quanto prima la cavatura e la pulizia delle vasche e dei canali per garantire il corretto deflusso delle acque piovane. Lavori per i quali sarebbero già stati stanziati anche i fondi, 2 milioni di euro, per un progetto che sarebbe dovuto partire la scorsa primavera e che avrebbe dovuto interessare il canale di via Crocillo e le vasche di via Cuccaro e via Marmolito. Ma ad oggi non si è ancora visto nulla. Ancora una volta ci troviamo a parlare del rischio idrogeologico. Siamo qui a chiedere di agire alle autorità competenti, dichiara il sindaco di Quarto Rosa Capuzzo. Tra l'altro queste vasche sono in prossimità di scuole, in zone a forte urbanizzazione e già con le prime piogge si sono verificati i primi notevoli disagi e la situazione non può che peggiorare.